Due parole velocissime su Euphoton. È stata fondata nel 1997 a Trieste, nella nostra meravigliosa città di mare, con l'obiettivo di produrre e diffondere dei laser che siano alla base portatili. Quindi, di conseguenza, dei laser a diodi. Tre fasi importanti per la nostra crescita. Vedo tante persone che ci conoscono da anni, quindi qualcuno di voi si ricorderà il primo vecchio laserino da 10 watt, perché lo chiamavamo effettivamente come tale, il laserino chirurgico medicale, e quindi l'approvazione con il marchio CE nel 1998, l'ISO che è arrivata nel 2006 e con grande soddisfazione e felicità vi comunico che tre mesi fa abbiamo ottenuto anche l'FDA per poter diffondere le apparecchiature negli Stati Uniti.